Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina, eccoci di nuovo in trasferta a fare un video sullo smartphone questa volta perché vogliamo usare Google One con Google Photo o meglio adesso che siamo abbonati a Google One grazie a Google Photo abbiamo delle modifiche aggiuntive da fare alle nostre immagini veramente carine andiamo a provarmi una eccomi sullo smartphone vado a cercare Google Photo quindi ce l'ho già aperto tra l'altro eccolo qua questo è Google Photo queste sono tutte le prove dei video che ho fatto per cercare di fare l'introduzione a questo video e in alto a destra c'è la D cerchiata con questa circonferenza multicolore è il mio account da esperimento con la segnalazione dell'abbonamento in corso infatti la circonferenza colorata dice che sono abbonato a Google One posso quindi modificare le foto con degli strumenti aggiuntivi vediamone uno interessante allora prendo una prima immagine eccola qua questa è la campana dei caduti di Rovereto Maria Dolens mi pare che si chiami in questo luogo molto affollato è difficile riuscire a fare una foto della campana con tutta la vallata senza persone che gironzolino lì attorno quindi adesso noi andiamo a cancellare le persone la foto l'abbiamo fatta alla fine ma vogliamo cancellare le persone quindi vado su modifica qui in basso vado a cercare gli strumenti quindi faccio scorrere finché appare la voce strumenti e adesso trovo centralmente gomma magica la gomma magica è lo strumento aggiuntivo con l'abbonamento Google One come puoi vedere c'è l'uno circondato dall'arcobaleno colorato che sta ad indicare che è una funzione aggiuntiva di Google One proviamo ad attivarla quindi premo su gomma magica e il bello di questo strumento è che fa lui una scansione dell'immagine e identifica quelli che sono gli elementi in più ecco che adesso vediamo le persone segnate come elementi estranei della foto per cui mi basterà andare a premere su cancella tutto lo faccio per vedere scomparire le persone dall'immagine ecco infatti che le persone non ci sono più e quindi abbiamo pulito l'immagine dagli elementi estrani proviamo ancora quindi qui io dico fine potrei salvare l'immagine vediamo se la salva automaticamente no mi chiede salva copia se io voglio salvare effettivamente questa immagine non voglio al momento lascio stare perché magari farò altri esperimenti del genere quindi voglio rimanere così per cui dico annulla annullo perché voglio uscire da questa schermata perfetto ecco l'immagine che è tornata con le persone torno indietro per andare a cercare un'altra foto un'altra foto che posso modificare è questa in questa immagine che mi piace molto proprio così com'è ci sono delle persone in bicicletta eccole qua e sono caratteristiche di questa foto però c'è anche un traliccio dell'alta tensione vediamo se possiamo eliminare questo traliccio dell'alta tensione quindi vado in modifica vado in strumenti eccoci qua gomma magica lo strumento fa una scansione dell'immagine non è detto che trovi qualcosa che ci interessa in questo caso perché l'immagine è molto miscelata ha trovato comunque le persone ma a me non sta bene quindi tocco da qualche parte per far andare via le persone riesco a togliere le persone come faccio? io non voglio cancellare queste persone sto cercando la possibilità di lasciar perdere ecco schiaccio sulla piccola X che c'è qua perfetto così ho lasciato perdere e adesso vado a cerchiare il traliccio non ho fatto proprio un cerchio giusto però il risultato è buono lo cerchio meglio adesso ecco fatto quindi il traliccio è stato evidenziato e ora è stato eliminato quindi la mia foto non ha più il traliccio tiro via anche questo pezzetto qua perché mi sembra che ci sia anche lì il traliccio perfetto quindi adesso posso dezoomare l'immagine se ci riesco ecco fatto e la mia immagine non ha più il traliccio a un certo punto decido che neppure le persone voglio in questa foto voglio che sia una foto tutta natura quindi di nuovo faccio il cerchio attorno alle persone ed ecco che lo strumento va ad eliminare le persone fatto bene direi che non è male come strumento questa la salviamo quindi faccio fine salva copia con salva copia di fatto rimane l'immagine originale che è sempre un bene tenere l'immagine originale e l'immagine in copia perfetto modifiche salvate questa è la mia immagine molto bella se faccio scorrere dovrei trovare anche quella originale immagine originale e immagine lavorata con lo strumento gomma magica se il video ti è piaciuto qui sotto trovi il pollice in su per dire mi piace trovi il pulsante iscriviti per iscriverti al canale e trovi il pulsante abbonati per abbonarti al canale youtube associazione culturale Maggiolina e vedere anche i video della serie speciale riservata agli abbonati ce ne sono già tanti sul nostro canale e ne escono due nuovi ogni settimana ci vediamo presto ciao 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 ciao